La dottoressa Eugenia Saroglia, pediatra dell'ambulatorio Bambi, buongiorno. La dottoressa Deborah Vietto, psicologa, formatrice Ampas. E il dottor Antonio Urbino, direttore della pediatria d'urgenza, ospedale Regina Margherita di Torino. Vi ho presentati per bene? Perfetto. Infatti, tutto nasce dal convegno Io ti vedo, dedicato all'infanzia abusata e maltrattata, che si è tenuto al Sermi, all'arsenale della pace a Torino, il 6 e il 7 dicembre. Un convegno voluto proprio da lei, dottor Urbino. Dovremmo avere anche delle immagini di questo appuntamento. Perché si è resa necessaria una conferenza sull'infanzia abusata e maltrattata? Sicuramente perché il problema è un problema molto importante. Molto importante sia in termini numerici, sia per le gravi conseguenze che possono derivarne ai bambini, e agli adulti che nella loro infanzia hanno avuto delle esperienze di questo tipo. Il convegno è stato un'occasione importante per confrontarci con diverse realtà, in particolare anche con le realtà di altri ospedali pediatrici, perché un servizio come quello che abbiamo noi a Regina Margherita, anche poi l'ambulatorio Bambi, la cui responsabile è la dottoressa Fulvia Negro, è un servizio che in qualche modo c'è anche in altri ospedali pediatrici, e quindi ci siamo anche un pochettino confrontati. La necessità è legata proprio al fatto che il problema è un problema serio, molto sottovalutato, e anche per quanto riguarda coloro che se ne occupano, in realtà le possibilità di individuare dei casi di bambini maltrattati o abusati non è così alta. Noi individuiamo la punta di un iceberg, quindi diventa fondamentale aumentare la sensibilità a questo problema. A chi era rivolto il convegno? Era rivolto a tutti, era rivolto veramente a tutti, soprattutto agli operatori che lavorano, sono a contatto con i bambini. Per esempio era organizzato in collaborazione con l'AMPAS, in particolare con l'AMPAS Piemonte e con la Croce Verde di Torino. Quindi questo la dice lunga a chi era rivolto, cioè sicuramente il mondo del volontariato può dare un contributo notevole a questo problema. Ma la situazione è preoccupante? Beh, ci sono numeri molto alti, poi la dottoressa Saroglia magari ne dirà qualcuno, ci sono dei numeri importanti, appunto dicevo la punta di un iceberg. Noi dobbiamo riuscire ad aumentare questa punta e quindi dobbiamo parlare con le persone che hanno contatti con i bambini perché attraverso la capacità di cogliere dei campanelli d'allarme noi possiamo individuare casi che magari sono difficili da individuare. Ecco, ce ne sono tanti, dottoressa Saroglia, di questi casi di bambini maltrattati, utilizziamo questo termine. Sì, purtroppo ce ne sono tanti. Ancora tanti? Sì, ancora tanti e anzi forse proprio perché finalmente si è iniziato in qualche modo a fare, a segnalare, a insegnare, a cercare di capire quale possono essere i segni o i comportamenti particolari che possono assumere questi bambini, i casi sono tendenzialmente in aumento. L'ambulatorio Bambi che è iniziato dal 2002 ha visto man mano crescere le segnalazioni, tanto è vero che ad esempio soltanto nell'ultimo anno abbiamo avuto 72 casi che sono stati segnalati poi al Tribunale dei minori, al Tribunale delle fasce deboli, di cui di questi 72 casi abbiamo avuto 33 casi di abuso e 39 casi di maltrattamento. La dimensione di questo dramma è piuttosto ampia. Certamente, se consideriamo che siamo di fronte soltanto alla regione, per quanto riguarda la regione Piemonte, se i dati dell'Istat per l'emergenza infanzia del 2009-2010 ci parlano di quasi 8 mila casi di chiamate per emergenze bambini, di cui quasi 400 per abusi e maltrattamenti, stiamo parlando solo dell'Italia. Se andiamo poi, per quanto riguarda il mondo, si parla più di 200 milioni di bambini, 150 milioni di bambini violentati, il 14% di bambini. Però nel nostro paese civile l'Italia dovrebbe essere un fenomeno in calo. È in calo? Assolutamente no, anzi. Siete, lei fa la pediatra all'ambulatorio Bambi, che già ha questo nome bellissimo, che ricorda il cerbiatto di infantile memoria. Dove si trova, di cosa si occupa e come è strutturato? Dunque l'ambulatorio Bambi fa parte della struttura della pediatria d'urgenza. È nato nel 2002 per volere appunto della dottoressa Fulia Negro, a cui poi si sono aggiunti man mano le persone, proprio per rispondere alle necessità che si stavano già iniziando a presentare in quegli anni, cioè bambini che arrivavano in pronto soccorso con genitori o con operatori che dicevano comunque di aver subito dei maltrattamenti e delle violenze. Il problema di questi bambini è che devono avere dei posti dove possono poter parlare, dei posti dedicati a dei momenti proprio un pochettino di raccoglimento con delle persone che possono ascoltarli, che possono venire incontro, con cui creare comunque un legame. Per cui di conseguenza si occupa proprio di bambini abusati, maltrattati che arrivano o direttamente in pronto soccorso accompagnati dai genitori, dagli insegnanti, dai servizi sociali oppure dalle forze dell'ordine. Che età hanno i bambini? Un po' tutte le età? Piccole o un po' più grandi? Diciamo che un po' tutte le età tendenzialmente. Il picco segnalato normalmente è intorno tra i 5 e gli 8 anni, con una media intorno ai 7. Sono piccole? Sì, due terzi sono bambine e teniamo però presente che i danni maggiori sono legati ai bambini più piccoli, sotto i 24 mesi, cioè i danni permanenti, tipo la sindrome del bambino shakerato. La sindrome del bambino shakerato? Esatto. Cioè scosso? Esattamente, cioè il bambino che magari anche involontariamente viene preso in braccio e scosso perché magari per cercare di capire perché piange, perché si teme che... Però involontariamente è un'altra cosa, o comunque si tratta in ogni caso di maltrattamento. In ogni caso si tratta di... Cioè il bambino piange perché fa il bambino, piange... Però a volte un movimento troppo brusco può creare delle lesioni a livello cerebrali che possono diventare permanenti. Davvero? Sì. E quindi... Sappiamo però che il genitore è il mestiere più difficile nel mondo, eh? Sì, sì, assolutamente. Non bisogna chiaramente confondere con... Maltrattamenti volontari. No, d'accordo, ma anche con lo scuoterli in maniera normale. È chiaro che un bambino scosso che ha delle conseguenze importanti come emorragia cerebrale... Sì, l'hai scosso? E' scosso in maniera violenta, è scosso in maniera... Con un genitore che si innervosisce in maniera particolare... Sì, quindi non mi devo preoccupare, insomma. No, 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 altrimenti non possiamo più cullare i bambini. Assolutamente. No, 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 no. La sindrome del bambino shakerato non l'avevo mai sentita, però capisco che effettivamente può essere un grosso pericolo quando soprattutto dall'altra parte c'è il genitore innervosito che lo... Chi perde la testa, perché comunque è un genitore che perde la testa. Poi ne riparliamo ancora. E volevo introdurre anche la nostra psicologa, formatrice dell'AMPAS, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze delle Piemonte, Deborah Vietto. Anche AMPAS è partner di una serie di sensibilizzazioni, cioè proprio di un progetto di sensibilizzazione su questo tema, no, sul tema del evitare i maltrattamenti dei bambini. Certo, AMPAS ha accolto con grandissimo interesse l'invito da parte della pediatria d'urgenza dell'ospedale infantile Regina Margherita e dell'ambulatorio Bambi a essere partner appunto in questo convegno dello scorso dicembre Io Ti Vedo, proprio perché è una problematica estremamente complessa e delicata. AMPAS è felice di poter continuare la collaborazione con l'ospedale Regina Margherita e l'ambulatorio Bambi attraverso un progetto di formazione a largo spettro che andrà in qualche modo a coinvolgere tutti i volontari delle associazioni delle pubbliche assistenze. Abbiamo visto prima il sito dell'AMPAS www.ampas.piemonte.it Dottor Rubino, perché Io Ti Vedo, questo titolo? È un po' sta in quello che dicevo prima, cioè noi dobbiamo cercare di mettere le persone che hanno contatto con i bambini di accorgersi di alcuni sindomi d'allarme, dobbiamo essere in grado di vedere le cose che ci sono intorno e quindi dobbiamo sensibilizzare le persone, i volontari, le forze dell'ordine, poi forse parleremo, tutti gli operatori che sono a contatto con i bambini a cogliere questi segnali. Ecco, ne parliamo subito perché vedo che durante il convegno è stata fatta anche della formazione specifica per tutti i protagonisti della vita dei bambini, volontari, insegnanti, educatori, forse anche dei genitori, e quindi anche le forze dell'ordine che sono, ahimè, chiamate ad intervenire quando c'è qualcosa che non va. Certo, noi abbiamo fatto prima del convegno, immediatamente prima del convegno, tre corsi di formazione, una dedicata ai volontari e tra i volontari c'erano i volontari del soccorso perché sono persone che entrano nelle case dei bambini e che a volte possono, se sono opportunamente formate, cogliere dei segnali e vedere, ecco, lì io ti vedo, e vedere delle cose che altrimenti senza formazione passerebbero assolutamente inosservate. Oltre ai volontari del soccorso abbiamo dedicato quel corso anche ai volontari che lavorano negli ospedali, perché nelle sale giochi degli ospedali a volte si possono cogliere dei segnali che poi portano a scoprire delle storie particolari. In un momento di gioco, in un momento di svago, magari un bambino ricoverato per un problema completamente diverso, per un problema acuto, può magari evidenziare attraverso di segni eccetera dei segni di maltrattamento e di abuso. Se l'operatore, il volontario, è formato ed è capace di individuare e di vedere queste cose, ecco che diventa più facile individuarli. Oltre ai volontari abbiamo dedicato le forze dell'ordine, anche perché le forze dell'ordine spesso si trovano a contatto con situazioni anche denunciate di questo tipo e devono sapersi rapportare ai genitori, ai bambini, magari anche solo nel momento in cui li devono trasportare presso l'ambulatorio bambi, però devono sapere come ci si deve relazionare. Dottoressa Saroglia, io ti vedo, si intitolava il convegno, ma ci sono cose che vorreste non vedere? Succede? Sì, sempre praticamente, nel senso che comunque dover rispondere a queste realtà è comunque dal punto di vista emotivo per noi anche molto difficile, nel senso che comunque sentiamo racconti di bambini che è proprio anche all'interno soprattutto del nucleo familiare, teniamo presente che il 90% degli abusi e delle violenze sui bambini avvengono in ambiente intrafamiliare, il cosiddetto abusatore gentile, nel 90% dei casi, quindi vuol dire che il bambino conosce e quindi la persona che conosce il bambino si può avvicinare con più facilità a lui e non usare una vera e propria violenza del tipo di aggressione, ma essere comunque più gentile tipo appunto gli zii, i parenti, i nonni. Ci fa una distinzione tra abusi e maltrattamenti perché sono due termini che rientrano sempre nel regno oscuro delle cose negative, però c'è una bella differenza. Certo, sì, intendiamo per abuso, l'abuso di origine sessuale, l'abuso sessuale nel bambino si riferisce tendenzialmente a tutto quello che riguarda la sfera sessuale, ovvero i toccamenti a livello dei genitali, i giochini diciamo così più o meno erotici che queste persone costringono il bambino a farlo inconsapevolmente perché il bambino non è a conoscenza, non ha ancora la capacità diciamo di capire che è un evento sessuale voluto e per questo che si tratta comunque di una violenza anche misconosciuta, di maltrattamento si tratta di maltrattamento sia fisico che spesso anche psicologico. Quindi le sberle di troppo ma anche le urla e i rimproveri di troppo? Le urla e i rimproveri di troppo in senso quando diventano dei segni di lesioni psicologiche che creano comunque nel bambino dei disturbi dal punto di vista proprio... Beh sì, poi purtroppo sappiamo che i maltrattamenti psicologici a volte possono riguardare anche gli adulti.